Altro ritocco di falciatura, mi sono sommato i panni, come si dice, vabbè. Mi sono attaccato i giubbini così per la destra. Vediamo. Non bisogna scappare con la falca e mai piana. Guardate. Adesso portiamo il video da questa parte così si vede meglio. Sì, perché l'angolazione non è che la prendi tutta. Ecco qui. Allora, guardate la tecnica. Vi faccio notare una cosa. Qui in mezzo, tra lo spazio interpilare, questo è il pezzo che ho fatto, vedete? Qui in mezzo ci sono sempre dei giovani polloni. Poi qualcuno lo tolgo e qualcuno lo lascio al bivaio per innestare. Sì. Come vedete qui. Vedete? Ah, questi sono i lamponi. A proposito, anche gli alberi si seccano. Veramente questo qua l'ho tagliato per un semplice motivo. Siccome era una mela che non produceva, il prossimo anno questo verrà innestato qui. Grazie.